Ciao a tutti ragazzi sono Giorgio3.0 e oggi siamo su Clash Royale in compagnia di Dustin YOLO Allora ragazzi, mi hanno, Clash Royale ragazzi, mi ha donato il regalo, il baule magico Quindi ce l'apriamo Ma la troviamo questa leggendaria? Penso di sì ragazzi Si chiama? Che ne so E valla a vedere nel torneo Ah, ma la potrei anche trovare? No, non la posso trovare, bello zio Nello quadrono Eh scusa vedi Questo è il fuorilegge Che c'è la sfida Vedi in che arena si trova, vedi? Nell'arena Ah vero, e infatti sono uscite pure le nuove arena troppo fighe ragazzi Cioè la nuova arena Intanto l'arena 10 si chiama ora Monte Cinghiale E invece poi c'è l'arena leggendaria che sarebbe Eh, l'arena 11 E poi ci sono addirittura le legghe Capito? Cioè fighissimo E non lo so Eh, tanto non ci arriveremo mai comunque Vabbè Eh minchia Io sono la lega blu Comunque Ci apriamo il nostro balanagico Via No raga Non ci posso credere Una patatina Dai ragazzi Due cavalieri Di più Di più Bravo Tutte le rare un botto Sì Tutte queste comuni raga Mi dispiace ma non ci ho trovato niente ragazzi Bella vita Peccato Che schifo è essa Né un altro? Ah infatti Che è? Un bacio Un bacio Comunque Niente raga Non ci abbiamo trovato niente Peccato Vabbè Ci possiamo fare Vabbè Questo era un piccolo video Per aprirci sto schifo Però Ah comunque Vabbè Ci miglioriamo questa Per andare A livello Nove E non ci arriviamo Ma che schifo è Clash Royale Comunque Ragazzi Questo era per farvi vedere Il nuovo aggiornamento Vediamo se Tipo sui clan Hanno aggiornato qualcosa Niente Vediamo se Simone Se Dustin Ha questo Questo baule Pure lui Ah ok Non ti carica l'internet Peccato Vabbè ragazzi Questo era un piccolo video Così per farvi vedere Questo baule In cui non abbiamo trovato Niente Ecco Vabbè Ragazzi Comunque Io vi saluto Ciao ragazzi Un saluto anche da Dustin YOLO Che ragazzi Ciao